Amici di Bubbles Italia Magazine, benvenuti a questo nuovo episodio di Sommelier a domicilio. Io sono Sissi Baratella e oggi vi porterò alla scoperta del territorio del Prosecco Doc, lo sfumante metodo italiano che si produce tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Questa denominazione da poco si è tinta di rosa, dando vita al primo Prosecco Doc Rosé. Io non vedo l'ora di farmelo raccontare, e voi? Il mio tour alla scoperta del Prosecco Doc, ma soprattutto della novità di quest'anno, cioè il Prosecco Doc Rosé, continua. Mi trovo a Villa Sandi, dove mi sta aspettando il direttore tecnico Stefano Gava all'interno della sala degustazione. Mi hanno promesso che ha preparato una sorpresa per me. Andiamo a vedere. Allora Stefano, mi pare evidente che oggi volete mettermi alla prova sulla novità di quest'anno, quindi sul Prosecco Rosé, quindi stiamo comunque parlando di Prosecco Doc. Ma prima di iniziare questo gioco, ti chiedo di raccontarci dove siamo, chi sei, cosa fai, e un po' di informazioni su questo posto. Grazie, sì, sì, beh, sì, ti abbiamo messo oggi, anzi, vogliamo metterti oggi alla prova. Beh, innanzitutto vi trovate a Villa Sandi, siete a Villa Sandi, qui a Mirarselle di Crocetta del Monterno, in provincia di Treviso. Oggi siamo qui a parlare, siamo qui insieme a parlare di Prosecco Doc, e siamo qui a parlare, fra l'altro, della novità della vendemmia, dell'ultima vendemmia, in particolar modo del Prosecco Rosé. Il Prosecco Rosé nasce, per l'appunto, non con la vendemmia 2020, ma con la 2019, nasce, per l'appunto, con un blend tra quella di Aglera, che è il viettino autoctono, da cui si fa il Prosecco, e poi un blend al 10,15% del Pinot Nero, che è la varietà internazionale, che è presente all'interno della disciplinare. Cosa significa produrre Prosecco Rosé per Villa Sandi? Ci abbiamo creduto tanto, perché per noi la versione rosata del Prosecco, e soprattutto il blend tra Aglera del Pinot Nero, il vinificato in rosso rappresenta, secondo noi, un ottimo colubio tra quelle che sono le caratteristiche di freschezza della Aglera, e la tannicità, se vogliamo, un po', del Pinot Nero, che dà poi quel tocco di colore. Ho capito però che in questi calici c'è un Prosecco Doc e un Prosecco Doc Rosé, e quindi mi affido un po' alle tue parole, alle tue indicazioni, e cercherò di individuare quello che è il contributo del Pinot Nero a questo nuovo vino. A questo prodotto. Vado! Il Prosecco Rosé è questo. Il Prosecco Rosé è il primo. E allora, abbiamo ragione, sono diversi. Ho sentito il frutto rosso, ho sentito una diversa cremosità e intensità in bocca. Assolutamente. C'è un leggero anche, parliamo di pochi decimi di grammi, di residuo zuccherino, sono tutti e due Brut, però c'è un grammo di differenza tra i due. Ok. E il Prosecco Rosé è quello che effettivamente ha un po' più di rotondità nel Brut. Bene, e allora con il Prosecco Rosé, che ormai abbiamo individuato, facciamo un brindisi. Grazie mille a te, a Villa Sandy e alla prossima degustazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.